io sono qui solo, solo, solo per te adesso passiamo la labbra, vado a scaldarlo un pochino dovrebbe aiutarti anche un pochino a rilassarti questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Yeboda Yeboda è un brand di skincare coreana che io uso ormai da anni mi sono già fatta la doppia detersione con il balsamo oleoso e la mousse detergente mi sono messo il tonico e adesso mi metto il siro ad anicinamide, il prodotto che sto usando Teire per Hero se siete interessati ai prodotti Yeboda questo è il momento perfetto per provarli o ricomprarli c'è la singles wig per cui c'è il 35% di sconto che è altissimo io ho la pelle mista e mi hanno aiutato tantissimo a pulirla sapete che io so prima anche di acne tardiva tutta qui e questi prodotti per me sono stati incredibili veramente voglio due proposte in particolare perfette per sfruttare al meglio questi saldi la prima proposta è il The Full Glow Set è un set completo per iniziare la skincare coreana se magari siete interessati a dei prodotti in particolare e conoscete qualcuno che è interessato ad altri prodotti di questo set potete fare l'ordine insieme e dividerveli oppure potete anche prendere in considerazione The Minis Set che è il set con i prodotti base di skincare coreana in versione mini questo lo trovo delizioso anche da fare sia come regalo a noi stessi sia come regalo a qualcuno che viaggia tanto o che vuole provare questi prodotti è una box stupenda di prodotti meravigliosi vi faccio vedere ad esempio i prodottini guardate che meraviglia sono stupendi secondo me come regalo ci fate una figura incredibile io ve la butto lì oppure questa opzione è valida anche se volete appunto provare e dare un'occhiata appunto ai prodotti di Kierpoda io vi lascio il mio codice sconto che è ASMR chiara tutto maiuscolo che appunto vi da il 35% di sconto e io vi consiglio di prendere appunto i set in modo da avere offerte ancora più convenienti l'offerta è valida fino a domenica 12 novembre io vi lascio tutti i link codice sconto in descrizione grazie come sempre della fiducia e ora passiamo al video ehi ma non stai ancora dormendo? oh no aspetta allora ci sono io qui con te adesso ci penso io a farti rilassare e farti addormentare ok ok bene comincio già a chiudere gli occhi io rimarrò qui anche quando sarei già nel mondo dei sogni bene chiudo chiudi gli occhi ok sono da qui per vedere se ti serviva qualcosa magari potrei potrei innanzitutto aggrezzarti un po' il viso la tua fronte prima di tutto vorrei solo aggrezzarti un pochino il viso la tua fronte se vuoi se vuoi se vuoi ti racconto un pochino della mia giornata ti senti un po' così a bassa voce bassa bassa voce tu chiudi gli occhi chiudi gli occhi senti anche la pioggia che viene da quella finestra lì non è rilassante non è rilassante allora oggi è stata una giornata molto rilassante sono andata in centro ho fatto colazione fuori con le mie amiche tipico del weekend fare colazione fuori per me soprattutto di sabato e poi e poi comunque è una pelle morbidissima e poi sono andata in libreria a comprare dei libri di cucina perché sai che a me piace molto e infine sono andata a comprare un po' di frutta e verdura al mercato che c'è il sabato in centro quindi ti faccio un massaggio qui alle sopracciglia intanto chiudi chiudi gli occhi ok adesso volevo chiederti se ti andava una tisana pensa che stai per chiudere gli occhi quindi no però volevo farti sentire il suono che secondo me è bellissimo guarda che meraviglia l'ho aperta stasera per me è una tisana sfusa rilassante è 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 questi rosa questi gialli senti l'odore buonissimi ha un po' di rosa un po' di di cammilla questa qui senti si e un po' di l'odore la metto via magari te l'ho dato domani mattina ok adesso ho portato con me ok 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 questo spray per cuscina un po' di più ok ne spruzzo un po' sul tuo cuscino e sul tuo letto ok? dovrebbe aiutarti anche un pochino a rilassarti respira molto molto buono secondo me molto molto buono è molto fresco ma anche qualcosa di lavanda quindi è rilassante ti piace? ma sono contenta ho portato per te anche non è vero ma non è vero è vero è vero è vero è vero lui c'è un po' l'acqua l'acqua oppure o l'acqua 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 Sì, sì, sì. Grazie. Questo passamolabbra vede a tutte delle parti di burro di karité che è estremamente idratante. Vado a scaldarlo un pochino in modo che le palline si sciolgano. E lo vado a distribuire sulle tue labbra. Così, chiudi gli occhi, chiudili. Fantastico. Ok. Ok. E' idratante. Almeno sulle mani. Ok. 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 La distribuisco un po' sulle mie mani. E adesso dammi anche le tue. Ecco. Se te le scalda anche un pochino. Me metto un altro po'. E faccio anche l'altra mano. Ok. 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 Direi che è perfetto. Adesso distribuisco il rimanente su di me. Ok. Ok. Buonissimo. Adesso volevo farti ascoltare, per farti cadere nel mondo dei suoni, il uno dei tuoi suoni preferiti. Ok. Lo vado a prendere. Ok. Adesso ti faccio ascoltare un attimo uno dei tuoi suoni preferiti. Ok. In modo che tu riesca ad andare proprio per un sonno profondo, 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 profondo. Ok. Che è la collana con i piedi blu. Ok. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Questa collana Uno Due Tre Quattro E cinque Cinque Fiori I petali sono tanti, non saprei bene come contarli adesso Però ha tutti questi petalini fatti di ciondolini blu E anche delle perline all'interno in mezzo Tanta carina Adesso Per renderti questo sonno ancora più profondo ed efficace Ti faccio un po' di brushing sul viso E intanto ti lascio un po' ascoltare il suono della pioggia Che cade sulla finestra E Sì Sì Sei completamente al sicuro con me e poi lasciare andare completamente al sonno al relax abbandonati questa sensazione di solletico al volto tutto da questo pennello io sono qui solo 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 per te per farti stare meglio per tranquillizzarti se serve per darti supporto per farti compagnia per farti staccare la spina da tutta la stanchezza la giornata le tensioni che hai vissuto in questo periodo cedi pian piano ogni pennellata fai un modo che tu puoi essere rilassata per rilassarti sempre 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 di più sempre sempre di più sempre di più voglio anche ringraziarti per la fiducia che menti in me nel fatto che posso aiutarti a farti dormire e mi sembra che 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 mi sembra proprio sia giunta loro appassare le luci le luci augurarti augurarti augurare a te 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 e ti ringrazio dal profondo del mio cuore buonanotte che li spera buonanotte